E' bella scuola, oggi siamo su Call of Duty Mobile e adesso, beh, questo è il mio telefono e adesso, beh, giocheremo a Call of Duty Mobile un pochino ci ho già giocato, un pochino, un pochino, un pochino, ho fatto circa due o tre partite perchè ancora il mio account non era ancora connesso a questo canale Grazie a tutti 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 Predator missile inbound Sniper eliminated We're almost there, keep it up Reloading Not like Keep on them, we're winning this one Reloading Changing mag, cover me Comunque questo gioco si chiama Call of Duty Mobile Nice work, well done Reloading 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.